Come affrontare la solitudine. Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale e all'aumento della prestazione. Se non sei iscritto al canale ti consiglio di farlo subito e clicca sulla campanellina per essere sempre aggiornato. Come affrontare la solitudine è un tema molto importante, soprattutto alla luce di risultati piuttosto recenti di ricerche importanti come lo Study of Adult Development di Harvard, che è uno studio che dura da circa 80 anni, quindi è stato diciamo tramandato attraverso varie generazioni di ricercatori ed è uno studio che ha preso un ampio campione di persone e le ha seguite appunto nel corso di circa 80 anni, monitorando tantissimi parametri, parametri più strettamente biomedici come quelli che riguardano la salute, parametri socio economici, parametri psico emotivi e quello che è emerso ha diciamo delle caratteristiche veramente molto interessanti, non perché neghi l'importanza del mantenimento della salute, ci mancherebbe, ma perché esalta, sottolinea se ce ne fosse stato ancora bisogno, perché in realtà intuitivamente lo capiamo e lo sappiamo, che le relazioni umane hanno un peso importantissimo nel rendere la vita bella e anche nel rendere la vita sana. Addirittura lo studio sottolinea con estrema chiarezza un punto molto importante, che le persone che hanno le relazioni personali più soddisfacenti a 50 anni sono quelle più felici e più sane a 80. Quindi è evidente che avere delle relazioni umane appaganti sia una delle cose probabilmente che crea un maggiore senso di soddisfazione e un senso di felicità. Le relazioni umane sono importanti, sono parte del nostro percorso di crescita, sono il terreno su cui cresciamo noi stessi. Dunque la solitudine non è una cosa facile da accettare e da gestire e ci tengo però anche a sottolineare che la solitudine dal mio punto di vista non è tanto uno stato oggettivo quanto una condizione emotiva. Insomma ci si può sentire profondamente soli anche in mezzo a tanta gente, la solitudine non è definita da quanti contatti ho, anche se può sembrare più acuta e più profonda quando i contatti ti mancano. Ma la solitudine è in fondo una sensazione di disconnessione rispetto ad altri anche se sei in mezzo a tanta gente, anche se frequenti delle persone per lavoro o per altre per altre ragioni ti puoi sentire solo. Ed è anche chiaro che c'è una grande differenza tra l'essere da solo per scelta e il subire la solitudine non per scelta tua ma per circostanze di vita soprattutto quando questa solitudine dovesse avvenire un po' bruscamente come quando si perde una persona con cui si è convissuto per tanto tempo. Sono situazioni molto difficili e sono situazioni che richiedono tempo prima di qualsiasi altra cosa, richiede questa ferita, richiede tempo per cicatrizzarsi e credo che non esistano miracoli, non esistono soluzioni rapide e purtroppo il dolore che è connesso a questa solitudine è un qualcosa che non si può non vivere, bisogna un po' attraversarlo e con il tempo ricostruire un significato di tutto ciò che è accaduto e possibilmente anche una rete di contatti che sia sufficientemente solida. Però penso anche che ci possano essere degli strumenti che ci aiutano un pochino a compensare il senso di solitudine. Come spesso dico non faccio nessuno di questi video YouTube con la pretesa di venire a dire queste sono le soluzioni perfette, ecco qua la mia risposta magica per vincere la solitudine non è non è nel mio stile e non penso che sia utile, però ritengo che la mia esperienza avendo lavorato con tante persone in stretto contatto possa comunque magari a qualcuno servire. Allora una delle cose che suggerisco per riuscire a contrastare un po' le abitudini è quello di cambiare un po' l'ambiente. Se l'ambiente è un ambiente che non ti appaga, che ti fa sentire solo, restare dentro quell'ambiente rappresenta fondamentalmente una trappola o rappresenta lo stare all'interno delle sabbie mobili, quindi cambiare ambiente permette di entrare in una nuova situazione con dei nuovi contatti che non è assolutamente detto che colmino il senso di solitudine, ma possono rappresentare una chance che questo piano piano accada. Il punto numero due, che in parte è connesso con il primo, è di non chiudersi. Chiudersi nella propria solitudine, isolarsi nella propria solitudine è aggiungere un'ulteriore condanna alla problematica che già c'è, quindi bisogna sforzarsi di venire fuori da questa solitudine. Anche, punto numero tre, parlandone. La solitudine non è qualcosa di cui vergognarsi e tra l'altro è un sentimento, un'emozione che riguarda tantissime persone, quindi anche parlare della propria solitudine può farci rendere conto che così tanto soli non siamo, che ci sono tante altre persone che hanno il problema della solitudine e che magari queste persone poi incontrandosi si possono aiutare, possono dare reciprocamente delle chiavi di lettura che sono a volte inaspettate. E punto numero quattro, penso che sia anche quello di pensare di aiutare per arricchirsi. E proprio in quest'ottica il temere di non parlarne e la capacità di aprirsi al dialogo con qualcuno che può avere lo stesso problema e anche addirittura proprio perché hai il problema, che qui è un po' difficile per tante persone capire questo, rendersi conto che puoi essere di aiuto. La maggior parte delle persone pensa che quando ha un problema non può aiutare, ma è sbagliato, è esattamente il contrario in genere. Le persone che hanno una capacità di aiuto, io mi reputo e spero di essere una di queste, non sono quelle che hanno avuto meno problemi, sono quelle che se mai ne hanno avuti di più e hanno avuto magari qualche carta in mano per risolverli efficacemente. Quindi il fatto di provare ad aiutare è il modo migliore per aiutarsi, un po' come il modo migliore per imparare e insegnare. Noi abbiamo bisogno di applicare le cose e quindi questo è un altro passo che ti porta verso l'esterno. E infine ultimo punto, punto numero 5, non fare la vittima perché non c'è nulla di peggio che restare fermi in una situazione e entrare in quella parte e cominciare a dire a se stessi nulla cambierà mai, io sarò solo, mi sentirò solo. Ecco qui ci vuole come dire un motto d'orgoglio, di alzare la testa e di dire ok è successo questo, mi sento solo, ma c'è un mondo intero fuori di persone, c'è un mondo intero fuori di persone che è solo quanto me ed è un mondo di persone che non aspetta altro che condividere qualcosa come te e quindi lì ci possono essere delle occasioni di incontro e in fondo sono le uniche occasioni di incontro vere, valide, quelle di persone che magari hanno qualche difficoltà ma capiscono che c'è speranza. E io sono particolarmente legato ad una frase di uno scrittore famosissimo che io reputo un po' un maestro o comunque una persona che può ispirare molto che è Paolo Coelho che dice sostanzialmente nessuno di noi sa nemmeno che cosa accadrà nel prossimo minuto e questo è vero, nessuno di noi sa cosa può accadere nemmeno nel prossimo minuto eppure nessuno di noi si ferma per questo. Continuiamo ad andare avanti e perché? Perché sotto sotto continuiamo ad avere noi esseri umani un senso di fiducia, di speranza, di fede che vale la pena, che vale la pena rialzarsi, che vale la pena riuscire di casa, che vale la pena risorridere a qualcuno, vale sempre la pena provare perché andare avanti è un po' nel nostro DNA e lasciarsi andare è un po' contro il nostro DNA. Quindi se ti trovi in questa situazione di solitudine rompi questo guscio, esci fuori e capirai che c'è un mondo che è pronto ad accoglierti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.